Allora io vi ringrazio per aver espresso la vostra preferenza, vi ricordo che tra qualche istante passeremo di nuovo per la consegna delle vostre schede del secondo turno. I tre finalisti dell'Oscar del Calcio 2016 sono Porricelli, Matteo Brunori e Daniele Ferrimarini. Allora Ferrimarini, Brunori e Porricelli sono i tre finalisti che voi dovrete votare naturalmente sul... Aspetta, 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 dove vuoi andare Daniele? Voleva venire sul palco, Bruno. Daniele Ferrimarini si è alzato, partiva, non ti ha chiamato nessuno, mettiti giù buono, insomma. Chiedo a Marco Croce e Liborio Zuppardo, seduti vicino, di legarlo se possibile, legatelo alla sedia, grazie, vai pure. È bello scherzo, questo è riuscito devo dire a Daniele. Allora, tra poco inizieremo alla votazione, per cui potrete esprimere la vostra preferenza votando o Daniele Ferrimarini, o Matteo Brunori, o Gianluca Porricelli, quindi passeremo noi per la riconsegna delle schede. Via la votazione, fra un quarto d'ora conosceremo il vincitore dell'Oscar del Calcio.